ma mi stai guardando male cosa è ma mi stai guardando male no scusa non ho capito cosa ma mi stai guardando male ah cosa è vieni qua vieni qua ti apri in due ti apri in due così vieni così stai guardando vieni i gino o cos'è torna subito a casa ciao ci vediamo ciao buona páscoa